Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Massimo Bossetti rimane l'unica persona finora considerata colpevole dell'omicidio della piccola Yara Gambirasio. A nove anni dall'arresto del marito, marita Comi, 44 anni, moglie di Bossetti è tornata a esprimere la sua opinione sulla vicenda. È la prima a credere nell'innocenza di Bossetti, e durante questi lunghi anni si è battuta instancabilmente per lui, gli avvocati di Bossetti avevano richiesto la revisione del processo citando l'emergere di nuovi elementi. Marita, tuttavia, desidera soltanto una vita normale, una richiesta comprensibile considerando l'impatto devastante che l'accusa di suo marito ha avuto sulla loro esistenza. Dopo nove anni, è consapevole che la normalità non tornerà più, poiché è cambiato radicalmente tutto. Negli ultimi mesi, ci sono state nuove sviluppi con le accuse di frode processuale e depistaggio sono emerse come pesanti pendenze, portando il Tribunale di Venezia a richiedere alla Procura nuove ispezioni delle indagini sulla morte di Yara Gambirasio. Secondo quanto riportato da un noto giornale, il Tribunale ha chiesto nuove verifiche su un campione di 54 reperti contenenti tracce di DNA, che rappresentavano l'elemento centrale dell'accusa contro il muratore di Mapello. Iscrivetevi al canale per scoprire eventuali sviluppi su questo caso e voi credete nell'innocenza o alla colpevolezza di Massimo Bossetti?